Torna a riunirsi dopo due anni in cui non è stato possibile a causa della pandemia la sessione invernale del Consiglio regionale nella città adriatica in Consiglio comunale, lavori oggi imperniati su interperlanze e interrogazioni e anche una situazione legata al bilancio della regione Abruzzo. Ma ne sa di più in diretta con noi, pronta da Palazzo di Città, vedo probabilmente in una sosta, in una pausa dei lavori, la nostra Marina Moretti. Allora Marina buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Carmine, in realtà non è una pausa ma è proprio terminato così il Consiglio oggi. È finita con l'approvazione di quella correttivo, come l'hai chiamato, aggiustamento tecnico che dir si voglia, che sistema il piccolo pasticcio, un piccolo errore. Nel bilancio che era stato già approvato dal Consiglio regionale, bilancio di previsione fino al 2025. C'era stata polemica attorno a questo argomento perché si era parlato di un errore definito anche con parole peggiori, diciamo cantonata e così via. Il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha risposto e ha spiegato di che cosa si trattava. Allora per una panoramica completa ascolteremo fra poco i due pareri contrapposti. Posso solo dire che stamattina fra gli altri argomenti, fra le altre interrogazioni, poi invece non si è parlato ma sono entrati in aula, facevo vicendo poco fa al Comitato per la Nuova Pescara, sono entrati in aula i rappresentanti di questo Comitato e hanno chiesto una riunione con i capigruppo, riunione che però è stata rimandata a lunedì mezza per protesta, se ne sono poi andati via. E quindi questa riunione non si è fatta. Però invece, tornando al bilancio, ho sentito proprio il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il quale ha spiegato come è nato questo errore, anche da una disattenzione dovuta alla fatica, ma ascolteremo poco dopo anche il commento su questa giustificazione, chiamiamola così, passatemi il termine, da parte del Vice Presidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinali, che è a fianco a me. Intanto può partire l'intervista Sospiri. È una situazione che non esiste in natura. La pubblicazione della finanziaria è sempre avvenuta negli ultimi dieci anni, l'ultima settimana di gennaio e quando l'attuale opposizione era al governo, più tardi, i primi giorni di febbraio. Perché è chiaro che tutto ciò che si approva entro il 30 dicembre viene poi sistemato, controllato, coordinato e di conseguenza sul bura di domani o quello di venerdì sarà pubblicata la finanziaria, di fatto negli stessi tempi, forse anche un po' in anticipo, rispetto agli anni precedenti. Oggi ci sarà un'ultima normina che sistema i collegamenti tra gli emendamenti approvati al bilancio con gli articoli della finanziaria, ma non ha nessun senso di esistere questa polemica perché noi non siamo in esercizio provvisorio, la finanziaria sta già espletando i suoi contenuti di programmazione economica, pertanto è una polemica non delle opposizioni, di una parte delle opposizioni, quelli che hanno maggiore dimestichezza con questo argomento si rendono conto che i tempi sono assolutamente anticipati rispetto al passato. La normina è l'errore? La normina è un dato di collegamento tra degli emendamenti approvati in bilancio che non trovano esatto riscontro negli articoli della finanziaria e alquanto normale che quando si approvano emendamenti alla fine di una giornata, dopo molte ore di lavoro e dopo molti giorni, gli uffici nel ricontrollare tutta la documentazione possono trovare delle forme di non coerenza e ne chiedono la corretta riscrittura, cosa che è sempre avvenuta in tutti gli anni e avverrà anche oggi. Bene, queste sono le dichiarazioni di Sospiri, ma ridiamo la linea a Marina Moretti perché ascoltiamo anche il commento di chi ha sollevato questa questione a metà tra il tecnico e il politico. Marina? Esatto, Domenico Pettinari appunto. Abbiamo sentito la domanda che ho rifatto proprio a Sospiri. Normina o errore? E lui ha spiegato la genesi di questo errore involontario. Che cosa c'è che non va? Beh, intanto diciamolo chiaramente. A fine dicembre si è approvato il bilancio di Regione Abruzzo, un bilancio che oggi non viene pubblicato sul bollettino ufficiale. Quindi quel bilancio non sta producendo effetti. Sono passati tantissimi giorni, oltre un mese di tempo, che io mi ricordi non è mai accaduto, non è mai accaduto, ma il problema ancora più grave è che non pubblicando il bilancio, i destinatari finali delle risorse, un bilancio di 6 miliardi di euro, soprattutto i tanti sindaci che dovrebbero mettere quella posta che hanno ricevuto nel proprio bilancio, sono in difficoltà, stanno subendo dei disagi pazzeschi, perché non possono mettere questa posta in bilancio. Non solo, ricorderete voi quella norma che abbiamo fatto per dare 5 milioni di euro alle famiglie per contrastare il calo bollette. Ebbene quella norma arriverà molto in ritardo. Ecco, questo ritardo pazzesco cosa ha prodotto poi? Ha prodotto che si ricorresse a una norma correttiva. Quando si va a fare una norma correttiva, quella che qualcuno chiama normina, è una correzione di un errore. È un errore madornare, a mio avviso, per incapacità, incompetenza. Questo si deve dire, perché è la realtà, altrimenti non si corre ai ripari. Il bilancio è l'atto più importante di programmazione in Regione Abruzzo. Se si sbaglia il bilancio vuol dire che qualche problema c'è in questo centro-destra. Oggi, attenzione, approvata la norma correttiva, non è finito qui, perché la norma correttiva poi deve essere firmata dal Presidente del Consiglio e trasferita al Presidente della Giunta. La Giunta deve promulgare, il Presidente della Giunta poi la deve portare in pubblicazione. Solo dopo la pubblicazione della norma correttiva si può eventualmente pubblicare il bilancio. Per correttezza e per completare l'informazione, dico anche che il Vice Presidente Sospiri ha comunque detto che questa pubblicazione avverrà tra mercoledì e venerdì. Quindi è sicuro che sarà in questo tempo. A questo punto, Carmine, il Consiglio è finito. Vedremo come andrà avanti questa faccenda. Se non hai domande da rivolgere a Pettinari, ti restituisco la linea.